Ragazzi benvenuti in un nuovissimo video di Brawl Stars Oggi sono insieme a Gixauri Ciao A Regina Bella raga a tutti E ora che non conoscerete ancora Che ora conoscerete Harley Quinn Ciao Andiamo su Brawl Sì era già pronto Esatto Perché come sempre ci mettiamo sempre tre ore a fare un video Ma non è solo colpa degli altri Eppure colpa mia Mette Vai Allora Regina apriamo questa cassa Regina Apriamo questa cassa Fatto Andiamo a quell'altra Harley Quinn ma non mi va molto la connessione Scusa A me va A volte va e viene Uh sono veloce Peccato Che io non abbia quella cosa Che adesso mi ricordo Mi ricordo come schiena Jackie Chi è Ma non ci sono imborbantibili Poi Puoi ucciderli Poi L'abbiamo uscito quel bot Uccidiamo pure Vivi 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 C'è Guarda qui c'è bot Dove c'è aiuto C'è aiuto C'è aiuto Ci aiuta C'è aiuto Ci è preso pure la pò Rappo Rai finito di dire aiuto Uccidete bot 1 Uccidete bot 1 Ma la vostra guarda non è finita? No, noi siamo qui Ma ci sono due early queen Ehi, che tante Attenta Livi, scappa, potto, tu sei una scoreggia Ah no, scusami tanto Non mi parla con Nessi Ah, scoreggio Scappa Ma la vostra guarda è una regina piccola per un dot Ehi Ma a volte Ehi 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 Hai bisogno di me Giggs? Ah Giggs Ehi 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 C'è una mappa che volete di footbrawl o vi vanno bene Io l'ho già messa Io l'ho già messa Io l'ho già messa questo Io ho già la gioconsigliata Ca Campetto Brawl Campetto L'avete messa? Eh no la sto cercando Campetto Campetto Prima mettiamo questa visto che Ti ha chiesto la youtuber in persona Eh già Io vi metto un brawler imbattibile ragazze Un altro brawler imbattibile Cioè lui Che io non vedo Nemmeno io Oh sì Sì Il suo gadget permette di vedere attraverso i cespulli Livianza ma A me mi puoi chiamare pure con il mio nome eh Eh Ma ci uccideremo? In questa partita Penso di sì Perché ci sono i bot Eh sì Ci uccidiamo Ma Jigsawi Pronto Ok vabbè Allora no Cosa? Ci volevi dire Jigsawi? Sì Ti bevano i gadget L'avevo detto cara Tara Tara è sempre Tara no? C'è Moio C'è Moio C'è Moio C'è Arte Queen È morta È viva Che cosa può fare? E non è viva Muori Iiii 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 Aiuto Aiuto La Sofia Vedi i suoi versi Silenzio mortale Contenere Per l'altro Dracula Penny No Per un pelucchio di Bertuccio Eh il pelucchio di Bertuccio è raro eh Già Oh mio dio Non l'avevo mai notato Io sì Così Che quando muore la torretta di Penny Lascia Quattro bossi Iiii 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 Oh no L'abilità stellare Ma cosa? Ah sì è vero Esci una personalità Muori 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 te Devi entrare Guarda Vai vai Scorreggiona 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 La Lugrazia Dai muori Oh alleluia Lei muori Personalità Ma stai dopo Il figlio della Penny Allora Allora Stop Che qualcuno perli una alla volta Ok Thor Appena scritto Su dove facciamo le videochiamate Siete pronte? Pronte da un bel po' Non aveva già cominciato da un bel po' No e lei Brun Brun Certo Che gol Che gol Che gol Che gol Brava No no Si faranno le supplementari Le odio Sì ma quanto muoi? No Mori Sì E Ci godo Ci godo Ci godo Ci godo Ci godo Ci godo Se volete un'altra modalità Ancora sopravvivenza Io volevo Allora Chi botta footbrawl Chi botta footbrawl Io no Io sì Quante? Vabbè No Mi devono mettere sopravvivenza Io sì Vabbè Lili te che modalità vuoi? Io volevo footbrawl però Ultima partita Allora però Adesso Mettiamo Il La mappa che voleva Harley Quinn Ok? Ok Tanto mi va bene Quale era? Campetto Solo campetto? Cioè ho sbagliato Brawl Tafford Allora è quella di prima Allora è il campetto Lascia tutto Ok B B Però Io devo mettere Sara Che non ho Ha ha Sara Volevi No Volevi 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 Come noi rimettiamo No Sì Non dovete andare Sottembre Direttamente Grazie Prego O almeno Ho capito Ora Pazza di videogioco Aspettate Che ho giusto Saurina Ti difendo io Ho più 5 e 6 Vabbè Non è morta Quella lì È morta Harley Quinn Ma Come lo chiamano alcuni C'è una piccola Role Non me gusta Non me gusta Sì 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 Ma Quindi anche i bot 2 possono fare i gol Certo Sì 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 Uccidete Harley Quinn No Certo che lo farò Questa deve morire E deve morire E deve morire Tanto batto uno Gni 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 E io chiedo Tara Certo Che sarei Lidia eh Ero Ero Forza Preferisco che tu muoia Tutte e due Grazie Mi ha reggenderato vita Anche se ce l'avevo al massimo Mi fate male Vi ringrazio per la palla Luttiamo per la palla Tagli un bel colpino Di pezzo I I I Perché proprio a me Perché che schifo di vita Sono dopo Ma Mori È Un bel colpo Ho E Già Per Non so dove Vedete Le cose nere Bianche Guido E' la palla della Juve Oh Mori Abbiamo vinto Ma come sono sempre i botti migliori Non è giusto Mi diteci voi nei commenti Che squadra ti fate Allora scrivete Sotto nei commenti Mettete Allora scrivete sotto nei commenti Qual è la vostra modalità di gioco preferita E poi mettete Hashtag Regina e Lidia 19 Ma dove siete? Vabbè Harley Quinn per favore Non diciamo più queste cose Perché sono cose un po' private Insomma Non sono belle da dire in pubblico Ok Io alzo il volume Perché secondo me loro non vi sentono Uh Vai La regina sta scrivendo Ma io posso leggere quello che stai scrivendo Oppure una cosa che la telecamera Non può vedere No Perché è magico Quindi non Ok Vabbè lo leggerò dopo Me lo direte dopo a voce 11 Ma senza la telecamera Mi raccomando Sì Sì Mettete pronto Ma adesso si può cambiare squadra Eh già io ci sto sempre Con lei Ok Chi vuole stare con me Io Ok Regino Grazie Grazie Mi ascolti No Ti sta avrì Puoi sentire come stiamo Sotto a questo Eh che cos'è Stiamo facendo un po' troppo casino Sembro 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 la maestra Che ci Che ci pronto La no La bevi già detto nello scorso video No Nello scorso Ne sono certa Prima non ne ero molto certa Muore 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 Sì L'è morta Oh no Eh regina Stai in seconda Zitta Aspetta Fai parlare Lei E Harley Quinn Ok ma io li faccio di qua Ah ce ne sono due Di Harley Quinn Ciao Oh mio dio La palla è volata Gia 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 Oh scusa Sei tu Oh no Era il tuo copione Il pot Di Harley Quinn Ma perché tutti contro di noi Ci aiutate Per favore Scusa No Però tu Please Non No Dai Voi due non ci uccidete No no Doni un bel colpo Un bel colpo Dai Oh brava Gia Ciao Guardate Ok bene Non ho capito Ma che ti pare Che io ti pare Io adesso guardo Attraverso i cespugli Quindi se vi nascondete Attraverso i cespugli Wow 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 Yahoo 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 Che bello Yahoo Yahoo Sì Sì Evviva Ti vedo comunque Non so se lo sai YouTube Help me Gizzauri Vendicami È lì Oh Dai È ancora lì dentro Sette Sei Cinque Quattro Tre Bravo Mi hai vendicato La squadra conquisto È che sono io la pro Dell'universo intero Cioè Dopo di me Perché ti ricordo Che io E il regina Abbiamo vinto Tutte e due le partite Eh no 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 Sono io la pro Tu magari sarai la Second pro Second pro Second pro Dai suona bene Però allora Dovresti mettere il primo No No che mi frega A me del primo Prova a fare Sì 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 Xauri mi sei mancato Tanto In questa vita Comunque io faccio i complimenti Perché nessuno Ha detto i veri nomi Anzi Una volta uno l'ha detto Però vabbè Non ci facciamo Cato Infatti Però non facciamo Però Sì Vabbè Lasciamo stare Non sappiamo chi è stato Non si sa chi è stato Lasciamo stare Per favore Giochiamo Facciamo le ultime due partite Per favore Basta E allora Usiamo due eventi nuovi Tipo rapina No Ma dai Io volevo giocare ancora Foot Però Ma da sedio allora No io voglio giocare No 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 Gixauri Gixauri Giochiamo insieme Bravo Puzzini Non vuoto Bror rapina Sì Grazie Allora il prossimo video Lo farò insieme A delle due persone Che conoscete Che sono ancora In questo video Ovvero Insieme a Regina E E Gixauri E praticamente Giochiamo Giochiamo Si confonde con il nome Sono sorelle Vabbè L'ho già detto prima E poi Volevo dirvi Ehm Mettite pronto E perché Perché Praticamente Mettere Faremo Sopravvivenza In singole Dovremmo Utilizzare Dovremmo Scegliere Un brawler Un brawler E utilizzarlo Per tutto Il video E allora Io terrò Io terrò Tara Ragazzi Comunque Questo qui Non è il mio Account Cioè Non è il mio Primo account Quindi non ho Questi trofei E De la Ma questo Senta Chi è Chi è Qualcuno Di nome Erley Queen Forse Forse E Forse Pussa via Ah davvero Pussa via Quindi non puzza No No scherzo No No scherzo No No Sordo Quindi Mi sono Rigenorata La vita Io guardate Che vivele Attraverso Gespuglie Io ho Il gadget Di cara Quindi io Vi vedo Attraverso I cespugli Care mia Che senso Stare Nei cespugli Appunto Non avete senso Uh ti vedo Ti vedo No Io un giorno Stavo giocando Con un'altra Persona Ehm Quando Sevinze 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 Sepe Oh è brutta Puzzona Quella è la copia Oh ma che cos'è Quest'occhio Oh ma che cos'è E l'altra Era Livia Eh già Guarda È solo È solo L'occhio della morte Che fai non ti uccide Ma che tipo di giocata Ma veni via te Regina Eh ma tanto poi ti uccidiamo Allora vediamo Ma te Abbiamo perso Gixauri È salete 96 Credo Ha ha Quella salete Che Mi ha preso Però non venite di nuovo A dirci Tipo nei commenti Eh si chiama così Eh vabbè Tanto l'abbiamo già detto Quindi potremmo anche Non ridirlo Iiiii Ma muori Volevi eh 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 Volevi Ah volevi già La brava Anita ha ucciso Eh attento è sempre il botte Il migliore Ora noi abbiamo i vostri risparmi Per l'università Eh Allora Direi di fare l'ultima partita Sopravvivenza In singolo Singolo Brava L'ultima partita Quindi giochiamola bene Siamo i leggendari Gli unici nel mondo No Siamo le leggendarie Siamo le leggendarie Questo video si chiamerà ragazze Le leggendarie All'inizio Noi mi raccomando Non uccidiamoci Please Le leggendarie Noi siamo Questa è regina No No Ci facciamo sommargere Dalla puzza Cioè Fino allo sfrenimento Regina Laggiù c'è un bomb Un bombardino Borbandino Borbandino Sì Il borbandino Allora andiamo avanti Sì Allora Andiamo avanti Il borbandino La sua parola è mia Non è proprio tuo Già perché è molto sporco Io ho paura di voi Quindi lasciatemi stare Lasciatemi stare Perché io ho paura di voi Talmud Ok ora sono più veloce Eh scusa No perché perché Botto 4 Botto 4 Botto 4 Botto 4 Gino Gino stai ferma Stai ferma Sono morta Vendicatemi Ok Dove Tutte e due insieme Tutte e due insieme Tutte e due insieme Non farò mai più Un video con lei Ma scusate Se mi state vicino Non è mica colpa mia C'è colpa tua Eh ma tu Vabbè Vabbè lasciamo stare Lasciamo stare Allora Guardiamo Facciamo finire la battaglia Queste Avete finito? Finito Allora Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale E scriveteci qua sotto Nei commenti Chi ti fate Se ti fate Hashtag No aspetta un secondo Regina Se ti fate LivyAlfa19 E Regina Oppure Se ti fate Harley Quinn E Gixauri Quasi ce lo sapete Qui sotto nei commenti Vi do Vi diamo Un bacio Un abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Salutate E un busto E un busto Ciao Mi raccomando Quando i video Iscrivetevi Allora Ciao